Gli ordini delle professioni femministiche sia di Arezzo ma anche della Toscana di cui rappresento sono chiaramente tornati più volte su questo tema. La carenza di personale femministico è una carenza evidente e questa boccata di ossigeno dovuta a queste nuove assunzioni fatte non solo in area sud-est ma in tutta la Toscana portano solamente un secchiello in questo mare. Bisogna però mantenere gli organici adeguati agli standard di assistenza perché altrimenti a rischiare non sono solamente gli infermieri che chiaramente sono veramente stressati in questo momento storico perché questa pandemia sta portando veramente tanta preoccupazione anche al personale perché è carente. Leggiamo di turni massacranti, di ferie magari non godute, di straordinari richiesti. Gli infermieri dicono sempre di sì, c'è qualcuno che invece non può e non risponde a quello che ha promesso. Sì, diciamo che la politica deve ascoltarci anche perché il senso di abnegazione e di dedizione da parte del personale femministico è stato dimostrato più volte, lo si è dimostrato anche nella prima parte della pandemia dove mancavano dispositivi di protezione individuale, quindi non si è affatto problemi a lavorare anche in condizioni veramente estreme. Oggi però la politica deve dare delle risposte, è arrivato il momento di dire basta, lo diciamo a livello nazionale, in Parlamento, ma soprattutto lo diciamo anche a livello locale. Quindi il nostro grido d'allarme è quello di creare le condizioni giuste affinché questa carenza venga colmata perché siamo solamente all'inizio di quello che potrà essere poi un'evoluzione di questa pandemia che ancora non sappiamo. Ecco, chiederete un incontro anche a livello istituzionale? Sì, da parte dell'Ordine della Toscana abbiamo chiesto un incontro al direttore dell'assessorato e all'assessore Bezzini per riuscire a comprendere bene quali sono i prossimi passi non solo sulla carenza di personale infermieristico ma anche su quelli che sono i riconoscimenti delle competenze degli infermieri anche a livello universitario con una programmazione adeguata di quelli che sono i numeri degli infermieri, ma soprattutto anche dal punto di vista tecnico, scientifico perché gli infermieri hanno dimostrato in questa pandemia di essere all'altezza, soprattutto con i propri studi, ad essere dei professionisti seri e chiaramente pronti all'emergenza.